Ciao ragazzi, oggi finalmente si parla di One Punch Man, ed in particolare andiamo a vedere le possibilità d'uscita di una terza stagione, che effettivamente non è stata ancora confermata. Il primo dato che bisogna tenere a mente è che le prime due stagioni di One Punch Man adattano circa 16 volumi del manga, attualmente invece siamo intorno al 22esimo in Giappone. Considerando che una stagione da sole 12 puntate è adattato circa 8 volumi, beh, teoricamente non ci sarebbe neppure il materiale per fare una terza stagione. Anche se in verità, parliamoci chiaro, si tratta di poco, e quando inizieranno a produrla, se dovessero farlo, ormai saranno usciti già volumi a sufficienza e anche di più, quindi direi che in realtà questo non è un problema. Sappiamo tutti quanti che la seconda stagione ha subito un cambio di studio da Madhouse a Jaycee Staff, e soprattutto dello staff dei membri che appunto hanno lavorato alla serie, e ciò ha provocato un enorme calo di qualità soprattutto dal punto di vista tecnico. Infatti questa seconda stagione è stata apprezzata davvero poco dalla critica, da me in primis, che non ho apprezzato quasi per niente. Infatti in termini di successo e di vendite non ci siamo. Le vendite dei DVD e dei Blu-ray, che è un dato molto importante per i giapponesi, nonostante ci sia poi pure lo streaming, è stato piuttosto basso. Parliamo infatti di circa 1200 copie vendute in madrepatria. Dati sulla prima stagione non sono riuscito a trovarli, ma sono sicuro che siano stati decisamente migliori della seconda. Quindi ragazzi, se mai dovesse uscire una terza stagione, cosa purtroppo non così certa come si pensava, perché se è una serie molto popolare a livello mondiale, in realtà non è che se la sia cavata così tanto bene, soprattutto dopo l'uscita della seconda parte. Comunque se dovesse uscire io penso che prima del 2022 non vedremo niente. In realtà nonostante questi dati io penso che potremo vedere qualcosa di nuovo o di animato in futuro dedicato a One Punch Man, considerando la nota popolarità che ha comunque avuto in tutto il mondo. Non c'è molto altro da dire in realtà, farmi sapere voi cosa ne pensate, soprattutto del calo che ha subito One Punch Man dalla prima e dalla seconda stagione, perché ho visto che alcuni hanno apprezzato di più la storia della seconda stagione. Io vi ho parlato spesso, quando uscì appunto la serie, che non avevo apprezzato tantissimo il modo in cui era strutturata, oltre che dal punto di vista tecnico, la seconda stagione. Però in ogni caso posso capire perché magari si è piaciuta di più dal punto di vista della storia. Dà molto più spazio a noi personaggi e personaggi secondari, mentre Saitama viene lasciato un bel po' in disparte. Ma in ogni caso è una cosa abbastanza ovvia, perché sarebbe pressoché impossibile continuare una serie con Saitama come protagonista assoluto, considerando il suo potere. Detto ciò ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like in tal caso, seguitemi sui vari social che trovate con la sua iscrizione, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!